La città delle piante cerca esperti vivaisti, già perché nonostante la tradizione che ha reso Pistoia famosa nel mondo, nel settore del verde ornamentale manca mano d'opera qualificata. E dire che nei vivai pistoiesi la richiesta di occupazione cresce, ma si fa fatica a trovare operatori in campo. Un settore, quello vivaistico, che sta vedendo una discreta crescita sia in termini dimensionali che in termini commerciali e che ha bisogno in pratica di innovare e quindi di crescere anche dal punto di vista innovativo e per farlo ha la necessità comunque di avere personale specializzato e qualificato. Per rispondere a questa esigenza è nata Diventa Vivaista Professionista, un corso progettato da Giorgio Tesigroup, azienda leader del territorio, da un'agenzia formativa e da Col di Red. L'obiettivo però è proprio quello di andare a derogare una formazione altamente professionalizzante, fornendo competenze tecniche specifiche. Il corso è articolato proprio con la parte teorica e la parte pratica, suddiviso in 55 ore di teoria e 55 ore di parte pratica, proprio dove tra la parte teorica e la parte pratica andremo a dare competenze mirate per lo svolgimento dell'attività professionale. Avranno sicuramente un futuro immediato per chi vorrà lavorare in questo settore, avrà un futuro anche per chi vorrà aprire un'attività propria, un'azienda agricola. Negli oltre mille vivai pistoiesi c'è stato un aumento del numero di addetti del 6,8% nel 2021, un dato che è quasi il triplo rispetto a quello generale di tutta la provincia, che cresce comunque del 2,5%. Ma il vivaismo ornamentale è in controtendenza rispetto alla floricoltura, che segna un meno 3,4%, pur rimanendo la seconda fonte di occupazione del pistoiese con 446 aziende. Il corso partirà ad aprile, le iscrizioni sono già aperte.